Ciao Marcello, un saluto a tutta la redazione di Top Planet e al nostro mitico amico Luigi Abate. Niente, siamo sempre noi. Cristian Marzo, Liziano Bianconera, Peppe Cordella, Copertino Bianconera, Toni e Manolo, Salice Bianconera, Mimmo Manduria Bianconera e Tommaso dietro Bisceglie Bianconera. Niente Marcello, siamo di ritorno dalla trasferta di Cardiff. Un'avventura fantastica, molto stancante. Ci siamo sparati 5.500 km, abbiamo attraversato 4 nazioni, 3 mezzi di trasporto. Tutto questo per amore, per la passione per la nostra Juventus. Purtroppo il finale non è stato come quello che speravamo, però purtroppo anche le sconfitte bisogna accettarle. E fortunatamente noi di sconfitte ne conosciamo poche. Questa Coppa è maledetta, Marcello. Comunque noi ci portiamo dietro un'avventura fantastica. Tanta la delusione e tanta l'amarezza, però noi siamo la Juventus. Da domani siamo già pronti a ripartire per la prossima stagione. Sempre carichi, più che mai. Quindi appuntamento al 13 agosto. Ci aspetta un'altra finale, la Supercoppa italiana. Stadio Olimpico, Juventus-Lazio. E noi ci saremo, perché noi ci siamo sempre, sia nel bene che nel male. Fino alla fine, forza Juventus! Un saluto a tutti, alla prossima! Ciao, Macello! Ciao! Ciao, Luigi! Ciao, Luigi! Forza Juve! Sì, prima forza Juve!